Quando mi è giunta all'orecchio la notizia di Netflix che si sarebbe occupata del riadattamento e quindi del ridoppiaggio di Evangelion, ho subito pensato Ma chi se ne fotte? Come dovreste sapere, infatti, la serie di Neon Genesis Evangelion, per quanto innovativa, originale e stravolgente possa essere stata, a me non è piaciuta un granché. Questo perché probabilmente l'ho vista soltanto poco tempo fa, poco prima di compiere 38 anni, e quindi in età adulta già piuttosto avanzata. Magari sarebbe andata diversamente se per la prima volta l'avessi vista quando è uscita, ovvero sul finire degli anni 90 a inizio 2000, quando avevo 19-20 anni. Anche se devo ammettere che nemmeno allora mi aveva acchiappato particolarmente. Ricordo di aver comprato, infatti, il primo numero del manga e dopo averlo letto non è che mi abbia lasciato addosso tutta questa voglia di continuare. Cosa che invece all'epoca succedeva molto spesso con molti titoli. Quindi ho deciso di lasciar perdere Evangelion e di concentrarmi su altre testate. Se poi consideriamo che, appunto, nemmeno tre mesi fa me la sono dovuta assorbire tutta per poi fare il riassunto, potete facilmente immaginare quanta curiosità e quanta voglia di rivedere questa serie potessi avere. Il problema è che ignorarla è stato impossibile. YouTube non ha parlato d'altro. Tutti sti cazzo di youtuber con il loro cazzo di video che criticavano pesantemente questo imbarazzante doppiaggio. Un malcontento generale diffusissimo e quasi totale. Credo sia la prima volta che mi capita di sentire una cosa del genere. Tanto più che ho saputo anche che Netflix, in seguito a questo brontolio del web, ha deciso di ritirare la serie per dargli una riveduta e una corretta. Cosa che, secondo me, avrebbero dovuto fare fin da subito. E quindi, vedi uno, vedi due, vedi tre, sono riusciti ad ammorbare pure me. E così ho deciso anch'io di parlarvi di questa cosa a mio modo. Tre, due, uno, via! La storia la conosciamo bene. C'è Shinji, questo solitario, sfigato, essere inutile. Talmente solitario e sfigato che perfino i telefoni pubblici si rifiutano di mettersi al suo servizio. Che deve incontrarsi con una tizia. Ma al suo posto arriva un mostro gigante che attacca e distrugge la città. L'oggetto mobile non identificato è tuttora in corso di invasione verso la base. Ah, quindi non lo sanno che cos'è. Ma invece subito dopo lo chiamano apostolo. È un apostolo. Ma scusa, ma non doveva essere un angelo. Allora perché l'episodio si chiama l'attacco dell'angelo, se poi è un apostolo? Apostolo di chi? Gli apostoli erano Simone, detto Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, un altro Giacomo, Taddeo, Simone e Giuda Iscariota. Mentre gli angeli di questa serie hanno tutti i nomi che richiamano quelli di angeli arcangeli, come Adam, Lilith, Sakiel, Shamshel, Irsafel, Zeruel, Vardiel, eccetera. E soprattutto sono 17, non 12. Comunque sto apostolo è fortissimo ed è immune alle armi convenzionali. E quindi Shinji che si ritrova lì da solo, come d'altronde in tutto il resto della sua vita, sarebbe un po' nella merda. Ma a salvarlo arriva la tizia con cui doveva incontrarsi. Che culo! Che lo porterà alla Nerf, un'organizzazione segreta che sta combattendo il mostro. La forza bellica non riesce a indurne l'arresto. Ma non era più semplice un Le nostre armi non lo fermano? Nessuna recalcitranza. Recalci cosa? Aspetta. Nessuna recalcitranza. E qui devo ammettere di essere andato su Google a cercare cosa significava sta parola. Cioè, si capisce benissimo che cosa potrebbe voler dire, visto il contesto e il resto della frase. Però io volevo proprio vedere cosa significasse esattamente. Il suo significato non è quello che speravo. In senso un po' figurato, ok, posso anche capirlo. Ma non era meglio un più semplice nessuna reticenza? Oppure non indugiate? Boh, vabbè. Fra l'altro, a questo fra virgolette apostolo, i missili fanno una pippa, li scarta come caramelle. E allora bisogna ricorrere a un'altra arma, più potente. Significa che useranno una mina M2. Una mina M2. Semplicemente M2. Perché M2? Che cazzo è M2? Cos'è il nome di un rapper? Ah, ti ringrazio molto. Mi hai salvato. No, anzi, lo direi io. Cos? E nuovamente, molto piacere. I cari Shinji. Certo. Ma certo cosa? Molto piacere. Ah, certo. Ma certo cosa? E dopo sta potente mina, il mostro è ancora lì. Quale enormità? Peste e diluvio, cos'è quello? Ma se abbiamo appena restaurato l'auto con tanto sforzo. Lei ha appena restaurato l'auto. Io invece l'altro ieri ho riparato un quadro di Michelangelo. Anzi, di Michelapostolo. Questa vi arriverà un po' dopo. Alla Nerf abbiamo il padre più stronzo del mondo. Farò avviare l'unità prima. L'unità prima, dici? Eh, appunto. Che cazzo dici? Si chiama Eva01. Figa richiama il titolo dell'anime, Evangelion. Richiama Eva, la prima donna che è stata creata da una costola di Adamo. Così come i robot Eva sono stati creati da Adamo, il mostro brutto brutto e scusate lo spoiler. Ma soprattutto, c'è scritto pure da tutte le parti, cazzo. E Shinji è davvero entusiasta di rivedere suo padre dopo tanti anni di menefreghismo più totale. E lo è soprattutto di pilotare questa fantomatica unità prima. Infatti io sono un essere indesiderato. Andiamo bene, proprio bene. Ma poi, vedendo com'è con Chata Rei, la precedente pilota dell'Eva si lascia convincere. E si fa il bagno nell'aranciata. E così, il timido, introverso e inutile Shinji dovrà vedersela con quello proprio in mondo chiamato Ange M. Apostolo. Solo che le busca e si risveglia in ospedale per la prima volta. Di una lunga serie. E allora, visto che è sempre da solo come uno stronzo, Misato si impietosisce e se lo porta a casa, che qualcuno che pulisse i bisognini del suo pinguino domestico ci voleva. Ben ritornato! Ma ritornato cosa? Sei la prima volta che ci mette piede. Sveglia, eh? Comunque in casa sua, Misato rivela la sua natura di pazza alcolizzata e rompicazzo. Successivamente, l'unità prima, mi fa ancora troppo strano dirlo, avrà modo di riprendersi la sua rivincita saccagnando l'Apostolo, che si fa esplodere, ma a leva non succede niente. Pure Shinji è sopravvissuto, ma la sua vita continua comunque a essere una merda. Quindi tutto bene. Ma scusa, ma gliel'hai detto tu? Io a bordo di un'eva, non ci salirò mai più. E dieci minuti dopo... Ma non serve che tu lo dica, è tuo padre e vuoi che non lo sappia come ti chiami? Andiamo bene, proprio bene. E io comincio a essere veramente saturo di questi dialoghi pretenziosi e altisonanti, di questi arzigogoli linguistici, pregni di termini aulici, desueti e talvolta dissonanti. Lì dove si incontrano e si miscelano l'erudito, il grottesco e la supercazzola. Perciò il video può anche finire qui, considerando che il riassunto completo di Evangelion già l'ho fatto. Lo troverete in ben due video sul mio canale o nella playlist dei riassunti dei robottoni. E decido di interrompere qui la visione, soprattutto perché non voglio più stremare le mie sinapsi per riuscire a comprendere perle di codesta notevole fattura. Però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci. Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. Come? A destra, per due. Pensa da te stesso, decidi da te stesso. Che cosa adesso tu stesso debba fare? In che senso? Prima di chiudere saluto e ringrazio tantissimo Antonio Moliterni, che si è sbattuto molto per trovare e mandarmi i primi episodi di questo riadattamento Netflix, anche se ufficialmente erano stati rimossi dal web. Quindi dovevano sparire dal web, ma si sa, dal web non sparisce mai nulla. Senza di lui questo video non potrebbe esistere, così come anche grazie a tutti voi che me l'avete richiesto. Ciao e alla prossima!